Dal 26 febbraio, mercoledì delle Ceneri, sino al 3 aprile, rimarrà esposto nella chiesa di Sant'Agata il simulacro di Gesù Nazareno, un anno particolare per l'associazione, che celebra i 150 anni di festa. Dal 1870, infatti, la Domenica delle Palme è caratterizzata dai colori e i profumi dei fiori che abbelliscono la barca, su cui si erge Gesù Nazareno, portato in processione per le vie del centro storico. Il programma del 2020 riconferma alcuni appuntamenti tradizionali, come il torneo di pallavolo sabato 14 marzo al Palacanizzaro dalle 15 in poi, o ancora i momenti dedicati alla musica. Il 21 marzo, infatti, sempre la chiesa di Sant'Agata al Collegio, ospiterà il dodicesimo concerto in onore di Gesù Nazareno e un omaggio musicale il 28 marzo Pace Minterris. Le celebrazioni si concluderanno il 5 aprile, il giorno della processione per la Domenica delle Palme. Quest'anno per noi è un anno importante perché ricorre il 150esimo della processione di Gesù Nazareno, così come siamo abituati a vederla negli ultimi tempi. Prima, nel 1870, non esisteva la processione di Gesù Nazareno, la Domenica delle Palme si faceva un altro tipo di processione a Caltanissetta, organizzata dalla ex congregazione della Santissima Bambina. Quindi abbiamo voluto ricordare, vogliamo ricordare, questo anno particolare con un programma che è ricco di eventi, conferma di eventi già organizzati negli anni passati, con l'aggiunta di qualche novità. Una di queste, senz'altro, è l'annullo che abbiamo voluto fare con le poste italiane per la Domenica delle Palme. La festa, la novità, se vogliamo, è quella che già abbiamo avviato un'attività sin da settembre dell'anno scorso, che con un gemellaggio, con una confraternita di Mussomeli, di Maria Santissima dei Miracoli, un gemellaggio non a caso, perché la Domenica delle Palme, prima della festa di Gesù Nazareno, più del 1870, si svolgeva una processione organizzata dalla ex congregazione della Madonna della Bambina. e quindi con questa confraternita di Mussomeli, diciamo così, che condividiamo queste origini, abbiamo voluto che venissero a partecipare anche loro a questa processione di Gesù Nazareno, così come noi l'8 di settembre del 2019 siamo stati a Mussomeli per partecipare appunto alla processione della Madonna dei Miracoli. e poi la classica processione, una processione come, speriamo, come ogni anno composta, con il simulacro di Gesù Nazareno che ormai da diversi anni viene trasportato a spalle dal gruppo dei portatori, che si fa sempre di più, ogni anno più nutrito, e si aggiungono tante persone, tanti devoti e tanti ragazzi che hanno proprio il piacere di contribuire a creare un gruppo sempre più nutrito, più numeroso per questa devozione che ormai manifestano da più di sette anni.